Edis, come va il tuo inserimento in questa Reggiana? Come giudichi le tue 12 partite, queste 12 giornate? Innanzitutto buongiorno a tutti, il mio inserimento è stato grazie alla squadra, allo staff, a tutti i componenti della Rosa, è stato molto semplice, mi hanno fatto veramente sentire come è a casa, mi sono trovato bene fin da subito, è una squadra forte quindi mi sono inserito molto bene, ragazzi umili, dal primo all'ultimo e quindi sono molto felice veramente. Quando tu sei arrivato si è parlato subito di campionato da vincere, pesa questo? Ma per una grande squadra come la nostra non deve pesare, deve essere uno stimolo e ovviamente un obiettivo al cui stiamo lavorando ogni giorno per per raggiungerlo assolutamente. Senti sono finite le domande buone, adesso veniamo a quelle cattive, allora questi cartellini gialli? Hai ragione, è una componente sulla quale sto cercando di migliorare, ne parlo ogni giorno con lo staff per cercare di migliorarli, ecco, di non prenderli oppure di evitarli o se proprio devo prenderli di prenderli in maniera un po' più astuta quando servono. Purtroppo per situazioni di gioco, la fuga, tutto, è difficile dire faccio così, non faccio così. Ovviamente sono il primo a non volerli prendere, purtroppo per una partita l'ho pagati cari, però se è servita la squadra l'ho presi ben volentieri. È una componente sul quale devo lavorare perché comunque sono un giocatore che quando arriva l'impressione ha forza di frenare e quindi di ripartire e magari ogni tanto mi faccio lasciare dall'entusiasmo, dalla voglia di... e faccio il fallo, ecco, mi dispiace. E i gol? I gol sono una componente che ho sempre fatto, non sono preoccupato, anzi, sono assolutamente tranquillo, arriveranno sicuramente. Diciamo che non sono venuto a Reggio per segnare 10-20 gol, non è nella mia idea di calcio. Sono venuto qua per aiutare la squadra, poi se viene il gol che sicuramente arriverà, sono ancora più felice, però è inutile che segno e la squadra perde. Meglio così, se la squadra continua a vincere, io sono contento lo stesso. Senti, il calcio di punizione, tu Montalto, Rossi, tra un po' arriverà Cigarini, tu quali vatti? Destro o sinistro? Ma le proviamo in allenamento, poi abbiamo degli schemi, abbiamo delle direttive, ecco, quindi in base anche a cosa ci chiede il mister, magari col calcio un po' più da lontano le provo, magari da più vicino ci mettiamo d'accordo, dipende da situazioni di gioco, ecco, non c'è una scheda ben precisa, dipende anche chi se la sente. Ora con la Vispesaro non mi è andata proprio bene, però pazienza. Quando hai preso la rincorsa abbiamo detto, questo è matto, tira da 35 metri con palla ferma, e invece... Sì, diciamo che in passato, non so se è un po' di fortuna, un po' di componenti, sono riuscito a fare qualche gol da quella posizione, ci provo, ci provo, perché su 10 tiri magari 2-3 entrano, ho fatto bene. Ecco, a proposito dei 10 tiri, tirate in porta, dovete tirare, l'ha detto anche il tuo mister, sì, diciamo che è una squadra che ci piace molto fraseggiare, anche quando siamo al limite magari bisogna cercare più il tiro in porta, perché se hai una deviazione, un rimpallo del portiere, la palla rimane lì, arriva l'attaccante, la butta dentro, è una componente importante, sicuramente abbiamo degli ottimi tiratori da fuori, e quindi dobbiamo sicuramente provare a tirare di più in porta, ecco. Quanto conta Aymo Diana per te? Quanto ha influito? Beh, il mister mi conosce talmente bene, sa ogni mio particolare, sa i giorni, capisce tutto di me, quindi tre anni fa, quando sono andato a Renate, ho parlato con lui, ho firmato il contratto in bianco, ecco, quindi ti fa capire quanto legame abbia io con lui e quanta stima abbia io di lui. E lui di te, perché sai che ti ha voluto, è un peso anche questo. Ho sempre avuto un bellissimo rapporto col mister e sono molto contento di averlo ritrovato. Senti, facciamo, ma è vero che vuoi traviare il povero Libucci? È un bravo ragazzo e ci penso io adesso. No, però durante la settimana ci scherzo tanto, è veramente un ragazzo d'oro che io tutta la mia carriera col calcio non ho mai… Tu sei un po' più d'argento o sei d'oro anche tu? No, sono d'oro anch'io, dipende. Cioè nel senso, quando sono in campo non è che mi tiro indietro, poi fuori dal campo sono la persona più buona nel mondo. Però sai, trovarmi un ragazzo di fronte come lui, che non mi era mai capitato perché è veramente buono come il pane. Sarebbe, io dico sempre, il ragazzo ideale a presentare la tua figlia. Perché è un pezzo di pane veramente. E noi lo amiamo per quello che è davvero. E quindi tu cerchi di rendere un po' più capito? Ma magari in campo, gli dico, cerca di togliere un po' quella parte lì. Però fa parte del suo DNA, non puoi cambiare una persona. Lui ha fatto così e noi lo amiamo così com'è. Grazie. Prego. A proposito di Diana, l'hai trovato diverso? No, assolutamente. È sempre la stessa persona, con la stessa voglia. Lo vedo proprio uguale. Forse magari in una piazza importante come Reggio è veramente deciso a raggiungere l'obiettivo. L'ho visto veramente deciso. Il tuo ruolo qual è? Perché chiaramente non parla un po' come tre quartiste, però vedete come si giochi. No, ho sempre fatto nel centrocampo a tre o a due. Comunque giravo a centrocampo. Non ho mai avuto... Ogni tanto magari un po' di anni fa, ma tanti anni fa giocavo un po' più sulla tre quarti. Ma dipende dalle partite. Però negli ultimi anni ho sempre ricoperto il ruolo di centrocampo. Sempre rimasto in quelle zone lì. Francesco. Ciao. Francesco Piotti, adesso è il Carlino. Piacere. Ti chiedo, forse cosa ti è mancato per fare una carriera... che stai facendo un'ottima carriera, ma una carriera a livello di Serie A come si portata quando eri un ragazzo. Perché sono un attimo documentato. Comunque ai tempi della Juve eri considerato uno dei talenti più splendenti d'Italia e non solo. Ma questa domanda sinceramente non me la pongo. Perché io credo tanto nel destino. Se il destino ha voluto che io facessi questo, sono contento e sono contento adesso dove sono. Sai, quei se e quei ma, potevo, dovevo, facevo, secondo me fai poco. Devi fare quello che il destino ti porta e farlo al massimo delle tue potenzialità. Poi per componenti mie, per componenti esterne, magari potevo fare altre scelte. Però sono contento veramente di quello che ho fatto e di quello che sto facendo. Assolutamente. Senti, parlando un attimo avanti, parlando del Ponte d'Era, in quali probabilmente trappole non dovrete cadere, che in qualche tipo di partite aspetti credo molto diversi comunque da quella di Coppa. Sì, il Ponte d'Era da diversi anni, io lo conosco bene perché ci ha giocato, è una squadra sempre ostica da affrontare, non è mai facile giocare contro i loro. Sono organizzati, ripartono bene in contropiede. È una squadra dove bisogna aggredirla subito e cercare di andare subito a prenderli alti e cercare di sbloccare subito la partita. Insomma, non trascinare la gara per… No, anche perché noi per come prepariamo le partite, ma che sia il Ponte d'Era che sia un'altra squadra, partiamo subito forte per cercare di sbloccarla subito. Siamo una squadra dove c'è tanti giocatori esperti, è una squadra dove piace giocare a calcio e per Indole, per come le prepariamo anche, ci piace attaccarli e aggredirli subito al primo minuto. Da Renate al Como, qui sei tornato… qual è il pensiero? Cioè, qual è l'idea che hai scelto di di solito quando uno raggiunge la Serie B vorrebbe rimanerci? Il pensiero di scendere di categoria che poi venire a Reggio per me non è scendere di categoria, anzi… è stata una scelta semplice, avevo altre situazioni anche in Serie B, però parlando col mister, vedendo la piazza che è qua mi ha spiegato tutto, ma non c'era motivo che mi spiegasse che piazza fosse, perché la conoscevo, l'ho seguita, l'anno scorso l'ho seguita tanto, è stata semplice la scelta, abbiamo parlato un po' col mister, c'è stata possibilità, è subito accettato. Quindi nessuna rinuncia? No, no, assolutamente. Il tuo calcio è un calcio anche di tocchi, forse qualche in più, qualche giocata in più… Sì. Ti comporta anche qualche calcione che prendi? Sì, hai ragione, mi piace tanto avere la palla, mi piace quando me la danno, mi piace essere al centro del gioco, voglio toccare tanti palloni, ma anche perché me lo chiede il mister, quando c'è magari 2-3 minuti che non sta toccando la palla, mi si dice vai, abbassati, toccala la palla. Quindi è la mia caratteristica, mi è sempre piaciuto e quindi… Sì, magari a volte devo giocare magari un po' più veloce sul tocco di prima, che magari in qualche partita sono uscito a farlo bene. E a volte magari devo cercare di creare superiorità, magari portarla un po' di più, però devo capire, e lo sto capendo, in che parte del campo devo farla e non devo farla. Anche la fase difensiva forse devi un po' migliorarla… Sì, diciamo che col mister ci stiamo lavorando, poi in fase difensiva creiamo molto delle zone di campo a uomo contro uomo, quindi magari io di parte ho il mio mediano che va a prendere bassa molto la palla, quindi mi costringe ad alzarmi tanto. Però sì, è una componente… ma guardi, io guardo anche i dati con il prof, con Baresi… Quindi sulla parte difensiva diciamo che magari posso migliorare perché chiunque può migliorare, però ci stiamo lavorando e sono abbastanza soddisfatto. La prima parte della stagione della Reggiane è stata un po' complicata, diciamo così. Nelle ultime partite invece la Reggiane ha ritrovato un po' una sua identità e l'idea che ci siamo fatti è che adesso vi divertite a giocare in questo sistema di gioco un po' più offensivo, un po' più di palleggio, è così o no? Allora, io il primo giorno che sono arrivato, ovviamente sai, non sono parole banali, però arriva in una squadra nuova, parlo di me ma posso parlare anche di altri ragazzi perché non sono arrivato solo io, quindi arrivano ragazzi in una squadra nuova dove comunque la gente ha in mente ancora un pochino la squadra dell'anno scorso, quindi deve ancora un po' capire la nuova squadra, come gira, come… ci vogliono magari un periodo di assestamento per capire un po' come la squadra gioca, come si muovono, conoscere bene i compagni, ovviamente questo ci vuole del tempo. Un po' nel passato ci siamo conosciuti, ci siamo allenati, abbiamo parlato tra di noi ma anche quando le cose, praticamente, andavano bene, cioè nel senso, non solo quando abbiamo avuto la sconfitta a Siena, a Fiorenzuola, abbiamo parlato tra di noi, ovviamente più ti conosci e poi dopo più le cose vengono naturali, quindi poi ovviamente anche magari i nuovi, io magari ero un po' più agevolato perché il mister lo conoscevo già, però magari anche i nuovi che sono arrivati per entrare nelle idee del mister ci ha avuto magari un pochino di tempo, ecco. Lentella, il pareggio a dentella con la prestazione soprattutto, cosa ti ha da dire? Ma siamo andati là convinti di fare il risultato, di fare la partita e secondo me il primo tempo abbiamo fatto, a parte cinque minuti, dieci, abbiamo fatto veramente bene, abbiamo avuto qualche occasione per buttarla dentro, però siamo andati là in un campo difficile, in un clima difficile che faceva freddissimo, davvero. E contro un avversario. E contro un avversario veramente forte. Abbiamo fatto la nostra partita e abbiamo preso un punto e siamo contenti di come abbiamo approcciato la partita, soprattutto il mister ci ne va tanto all'approccio e dar subito un segnale e penso che siamo partiti molto bene. E non abbiamo rischiato praticamente niente, a parte un tiro da 30 metri. Per vincere queste partite cosa serve? Ma per vincere queste partite a volte sai quando si affrontano due grandi squadre basta un episodio, basta veramente un episodio, però noi al di là che sia Lentella, che sia un'altra squadra, noi partiamo con l'idea di vincere assolutamente contro tutti, quindi la nostra forza deve essere questo, partire con la voglia di vincere ogni partita. Però nelle ultime sei partite la Reggiana ha subito solo due gol, quindi sotto il profilo difensivo, e in questo momento è un po' in attacco, cioè Lanini e Pellegrini hanno segnato a settembre, non tanto un po', cioè è un po' questo il ragionamento, e anche il mister l'ha sottolineato, cioè negli ultimi sedici minuti trovare sempre un po' la giocata migliore per arrivare alla conclusione. Ma, guarda, sono sincero, abbiamo veramente degli attaccanti forti, come ogni tanto vedevo il Misa che parlava e diceva per dirti a Lanini serve la scintilla. Eric ha avuto comunque tre o quattro palle anche con la Vispesaro, poi al di là del rigore sbagliato che ci sta, per l'amor di Dio, non muore nessuno. Quello che dicevo anche io a Eric, il problema è se non gli arrivano quelle palle lì. Il problema è che noi le creiamo, quindi io sono tranquillissimo. Il gol arriverà, ne ha fatti anche le prime giornate, ne ha fatti, ci ha tirato fuori un po' lui, quindi sono tranquillissimo. Poi Eric è un grande giocatore, come Pellegrini, Montalto, davanti siamo veramente forti. Quindi io dico sempre importante che arrivino le occasioni, poi il gol... Creare occasioni. Creare occasioni, poi il gol arriva sicuramente, perché hanno le qualità per... Elvis, a parte la parentesi di Como, tu sei passato da Renate a Reggio Emilia. In te, a Chiaveri c'erano mille persone che ti fanno a Reggio Emilia. Che significa avere questo supporto? Allora, io veramente dal primo giorno che ho firmato ho sentito veramente tanto il calore del pubblico. Per dirti, la partita con il Cesena volevo andare in curva, ma non perché devo far vedere, perché veramente mi piaceva andare a vedere, a vivere il tifo che hanno. Poi non c'è stata possibilità e non sono riuscito ad andare, però volevo andare. Per noi è un motivo di orgoglio, ma come ti dico, al di là del risultato a Fiorenzuola erano veramente tanti. Cioè io faccio fatica a trovare una squadra che veramente porta così tanti tifosi e ti stanno così vicino allo stadio perché li senti veramente tanto. Una spinta o una responsabilità? No, è una grandissima spinta. Ovviamente è anche una responsabilità perché quando giochi in una piazza come Reggio i tifosi ti vengono a vedere e giustamente vogliono vedere almeno sudare la maglia. Quindi è una responsabilità che ti spinge, quindi è una conseguenza, che ti spinge a fare molto 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 di più. Elis, guardiamo un po', facciamo un po' di matematica. Abbiamo sette partite, tre in casa e quattro fuori. Ti sei fatto un'idea di quanti punti e di quanti punti? 21. Su quello non ci scappa. No, un'idea non me la sono fatta, però ti ripeto, ma anche le prime partite noi abbiamo proprio l'idea e la consapevolezza e la forza che il Mista ci dice ogni giorno che bisogna vincere ogni partita. Qui bisogna vincere, ecco, non c'è altre scuse. Poi c'è la partita che non gira bene, non gira meno bene, però l'obiettivo è di vincere ogni partita al di là dell'avversario che abbiamo davanti. Quindi qualsiasi squadra incontriamo adesso, dobbiamo andare in campo per vincere assolutamente. Quindi è inutile che ti sottolineo che le prime, le famose sette sorelle le abbiamo affrontate tutte e adesso abbiamo la parte bassa. No, secondo me, anzi, bisogna metterci secondo me qualcosa in più adesso perché giocare magari contro squadre meno blasonate dell'Entella, del Cesena, magari può sembrare più facile, ma secondo me è molto più difficile. Perché trovi squadre che magari si chiudono un po' di più, giocano di meno, vai in campi che magari sono un po' più piccoli del nostro, devi metterci veramente qualcosa in più adesso, soprattutto adesso, ecco. Il nome viene perché tuo padre era un locitario? No, mio abbo aveva la passione di Elvis Presley e da lì è nato Elvis e quindi… Fuori dal campo Elvis come… Ma veramente… Con la polizia serve per te. Devo ancora… sono stato due volte in centro, devo ancora visitare la città, sono uscito veramente poco anche perché avevamo partito ogni 3-4 giorni per dirti… Io sono ancora in hotel che non sono riuscito a trovare la casa perché fra una cosa e l'altra non ho ancora… L'unica cosa vai da Luciano Manicondo e vedo che ti fa il taglio… Sì, vado da Lucio, sì. Si vede. Vado da Lucio, sì. Mi ci manda il prof, quindi vado da lui. Grazie. Figurati. Grazie. Grazie.